Aspettando che la Lega di Serie B conceda ufficialmente la deroga per giocare al Biondi contro l'Ascoli, la decisione è imminente e considerata pura formalità, sperando di non incappare in sorprese dell'ultimo momento, le attenzioni sono tutte per la trasferta di Vercelli che aprirà ufficialmente il quarto anno di Serie B. Oggi a mezzogiorno la squadra è partita in pullman in direzione Piemonte per nottamento in un paese vicino il capoluogo, poi domani la rifinitura che scioglierà ogni dubbio del mister. Facile immaginare che D'Aversa si affiderà nelle prime battute ai giocatori che conosce meglio per stringere i denti e riportare a casa un risultato positivo. Peccato per Turchi che ha accusato nuovi fastidi fisici, idem Fofanà, piccolo e squalificato. Intanto la presentazione ufficiale della Rosa preceduta da quella delle nuove divise ha contribuito a ricompattare tutto l'ambiente. La dirigenza, lo staff tecnico, la squadra tutta hanno chiesto ai tifosi calore e comprensione per remare tutti insieme verso l'obiettivo della salvezza. In particolare Guglielmo Maio ha riabbracciato la piazza e la sua gente cancellando qualche incomprensione di mezza estate. Il DS Luca Leone ha ribadito il valore della squadra tra le mille difficoltà di calciomercato. D'Aversa pur rimproverando alla società scherzosamente di avere il braccino corto e pronto a dirigere l'orchestra non lasciando nulla di intentato. Ma adesso si volta pagina, è tempo di campionato, Provercelli la prima, Lascoli al debutto in casa e già si comincerà a dire qualcosa sulla quarta B.